Cari smanettoni, oggi è una giornata produttiva. Per prima cosa inserisci una chiavetta USB. Inserisci i file nella folder principale della tua chiavetta USB col formato WAV 16-bit 44100. Accendi la tua SPD-SX. Vai su Utility, WAV Import, seleziona il tuo sample con il tasto più e poi clicca Enter. Automaticamente inserirà il sample in un pad vuoto ma potrai cambiarlo successivamente. Entrando sul menu, cliccando su Pad e semplicemente colpendo il pad desiderato e poi scorri su dove c'è scritto WAV finché non trovi il tuo sample. Spero sia stato produttivo. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like e condividete. Dove condividete? Condividete? Presto!